Ogni promesso è debito ed eccomi qua come promesso col nuovo episodio di Calcio Mercato di Serie A siete stati bravissimi, 52 like di cui 47 raggiunti entro 24 ore a meno che dopo 20, 17, 20 ore eravamo già 46, 47 quindi grazie di cuore ragazzi per avere un nuovo episodio anche domani sera di Calcio Mercato di Serie A vi invito a lasciare 50 like oppure 5 iscritti in questo video qui se entro 24 ore quindi entro domani sera a quest'ora li raggiungiamo avrete subito un nuovo episodio domani sera più o meno a quest'ora spero un po' prima perché vuol dire che l'avete lasciati prima è uscito anche quello di Calcio Mercato di Serie B 2-3 ore fa quindi andatelo a vedere perché non sta andando benino e avrei piacere di aver supporto anche in quel contenuto che una volta andava meglio di quelle Serie A quindi stranamente per fortuna o comunque per sfortuna adesso andiamo bene qui quindi cerchiamo di recuperare anche di là benvenuti a tutti i nuovi iscritti ragazzi andiamo con la raffica che oggi ci sono tante tante cose da dire Roma, Inter, Atalanta, Fiorentina, Milan, Bologna e tante tante altre adesso ve le ho dette così veloci quelle che mi sono venute in mente quindi andiamo, andiamo con la trasformazione non vi assicuro che rimango così perché se non leggo assolutamente una ceppa essendo notte vado con quelli chiari no ma dovrei andare bene anche così va bene allora ragazzi partiamo subito dall'Inter è fatta per Audero nel giorno in cui comunque è stata la presentazione di Sommer è fatta per Emile Audero trasferimento all'Inter arriverebbe in prestito con diritto di riscatto quindi secondo portiere per l'Inter dopo Sommer appunto arriva Audero tra l'altro c'è confermato appunto l'interesse per Taremi invece che insieme a Beto e Balogun sono i tre nomi che girano per l'attacco appunto dell'Inter attenzione a Balogun che ha comunque un'offerta del Monaco importante comunque ci sono queste tre opzioni molto importanti per l'attacco dell'Inter oltre a finalmente aver aggiustato i portieri dopo Sommer appunto arriva Audero notizia che avevo detto anche nel contenuto di Serie B essendoci la Sampdoria di mezzo Bologna intesa di massima con il Basilea per Ndoge finalmente Bologna conclude qualcosa di buono si muove sul mercato appunto un nuovo acquisto potrebbe essere appunto Ndoge alla destra di classe 2000 di proprietà del Basilea c'è l'intesa di massima notizia che avevo poi già detto che c'era l'interesse c'è l'ok del giocatore operazione da 9 milioni più 2 di bonus lui ha già dato l'ok appunto e Bologna appunto vuole chiudere l'opzione il prima possibile per prendere appunto questo rinforzo tanto atteso uno dei tanti per appunto Thiago Motta Milan Balotouré ha accettato il Werder Brema quindi Balotouré finalmente viene ceduto perché era in lista di uscita da un bel po' ha deciso appunto di accettare la Bundesliga terzino senegalese ha appunto accettato il Werder Brema e il club sono vicini all'accordo quindi Balotouré saluta il Milan nella Serie A non credo che ne sentiremo tutta sta mancanza neanche i milanisti Napoli si insiste per Gabri Veiga del Celta Vigo qualcuno me l'aveva già scritto nell'altro contenuto facci sapere, facci sapere, eccomi qua a parlarne Napoli insiste per Gabri Veiga talento classe 2002 del Celta Vigo è un pezzo che il Napoli ci sta dietro a Gabri Veiga è un obiettivo appunto per il centrocampo un classe 2002 calciatore che piace e sarebbe ritenuto ideale per migliorare il centrocampo soprattutto in caso di addio a Zelinski che continua a girare questa voce che Zelinski potrebbe andare in Arabia ovviamente si spera di no perché io obiettivamente da tifoso di calcio adoro Zelinski e credo che anche i tifosi napoletani abbiano un po' di tiraculo se dovesse andare via il club spagnolo chiede sempre il valore della clausola che ammonta 40 milioni di euro per lasciare partire appunto il proprio gioiellino quindi vediamo se il Napoli ha voglia di spendere questi 40 milioni di euro per Gabri Veiga ieri vi avevo detto dell'interesse per Copminers andate a vedere il video perché tanto ci sono tante notizie che sono ancora attuali c'è chi le ha portate addirittura stasera quindi sono ancora attuali andate a vedere quello di ieri andate a vedere quello di B e guardatevi anche questo e mi raccomando tanti like e tanti iscritti allora Fiorentina è fatta per l'arrivo di Inzolà Barone conferma appunto che hanno l'accordo che dovrebbe essere fatta quindi la Fiorentina chiude anche per Inzolà dopo aver chiuso le due operazioni praticamente fatte anche quelle lì sia per il portiere che per Beltran Fiorentina scatenata Fiorentina che riesce a cedere Cabral ha una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro al Benfica 20 più 5 di bonus quindi un'ottima operazione Cabral che è un giocatore che a me piace molto per me farà bene al Benfica ma ottima operazione della Viola che dà via appunto Cabral e anche qua a me pare vicino all'addio il Genoa è sulla punta quindi notizia anche del Genoa il Genoa vorrebbe appunto chiudere questa trattativa per qua a me vediamo vediamo perché appunto sarebbe buono anche qua a me per il Genoa vediamo 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 come va a finire poi la Roma ragazzi ve l'avevo già detto ieri cifra assurda presa per i Bagnès si continua a lavorare per Marcos Leonardo non voglio essere ripetitivo quindi è la stessa notizia di ieri sera comunque il difensore brasiliano ha accettato lasci giallorossi per 28 milioni di euro 28 milioni e mezzo di euro ragazzi è tantissimo per un giocatore come i Bagnès a cui si aggiungono 3 milioni di bonus quindi quasi 31 facilmente raggiungibile il 20% sulla futura rivendita operazione da 10 lode per la Roma da 10 lode e da questo da questo incasso da questa cessione probabilmente riuscirà comunque a fare un po' di mercatino anche la Roma e infatti la Roma pare sia interessata attenzione contatti in corso con l'Atalanta per Zapata per Zapata grazie al lavoro di Tiago Pinto dice Gianluca Di Marzio vi leggo tutto ha chiuso diversi colpi appunto nel corso di queste finestre di calciomercato l'ultimo minore caso riguarda il trasferimento di l'Ageri Bagnès bla 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 ora i giallorossi pensano al prossimo acquisto per l'attacco che potrebbe essere Duvan Zapata dell'Atalanta l'attaccante colombiano di proprietà di Bergamaschi può essere l'attaccante esperto e fisicamente prestante che chiede Mourinho nella giornata di oggi la Roma ha parlato con il club dell'Azzurro spostando appunto l'attenzione inizialmente posta su Muriel proprio su Zapata quindi dall'interesse per Muriel se passate l'interesse per Zapata benvenga prendano chi vogliono dei due io avrei più piacere se deve rimanere uno che rimanesse Duvan però se vanno via tutte e due è anche giusto così visto gli arrivi che sono arrivati e comunque la stagione non proprio felice fatta quest'anno sempre Atalanta oggi è il giorno ufficiale di Scamacca io già ve l'avevo portato la sera stessa che c'è stata la prima indiscrezione andate a recuperare il video ve lo lascerò qua nelle schede nelle schede qua in alto vi lascio sempre i video più recenti sono stato il primo a dirlo non per fare il fenomeno quindi andatevelo a vedere se vi va lasciate un like e vediamo Scamacca che dice che comunque Gasperini l'ha voluto che Gasperini vede in lui cose nascoste speriamo che davvero abbia ragione Gasperini e che Gasperini e appunto il DS l'hanno voluto a tutti i costi e lui ha accettato vediamo vediamo speriamo bene si giudica sempre a campo e non prima ve lo ricordo la Juve si lavora in uscita per far andare via Zaccaria al Monaco la trattativa è in fase avanzata dovrebbero riuscire a chiudere appunto poi la Juve oggi ha presentato appunto con le visite mediche Facundo Gonzales che era già nell'area che diventasse poi ufficiale ma comunque oggi è arrivata appunto l'ufficialità totale l'Udinese dovrebbe chiudere entro qualche ora perché comunque se ne stava parlando già due tre ore fa se non ha chiuso adesso per Ache sempre dalla Juve quindi vediamo vediamo anche questa trattativa che appunto sarebbe prestito per il 2001 dalla Juve appunto all'Udinese andiamo con altre notizie interessanti ultimora proprio ultimora ultimora arrivate fresche fresche per voi dal monta c'è si lo sapete la chiacchiera di Osimè in Arabia io non la voglio dire perché non ci voglio neanche credere ieri avevo anticipato che il Verona stava per chiudere per Sebastiano Esposito ora è ufficiale prestito secco quindi è fatta è fatta anche questa qui sempre l'Udinese si inserisce su Ryan Bania può essere il post Becao il difensore appunto quindi potrebbe diventare il sostituto di Becao ora c'è anche oltre a questa la appunto per completare quello che vi avevo detto ieri anche il Toro ha raggiunto l'intesa per Nicola Vlasic quindi titolo definitivo Vlasic torna al Toro ieri ve l'avevo anticipato è ufficiale 10 milioni più 2 di bonus appunto su poi ci sarà la percentuale sulla futura rivendita contratto fino a 2027 con un ingaggio di 2 milioni netti a stagione Megoglioni anche ieri mi sa che ho risposto proprio così Sassuolo si parte da Olma che lo Spezia vuole più soldi quindi non è stata accettata la prima richiesta scusate qua si è impallato tutto la prima richiesta appunto la prima scusate offerta del Sassuolo da 9,5 milioni non basta lo Spezia attende un rilancio vediamo se arriverà il Sassuolo ci sta provando non è facile perché comunque gli Spezzini devono anche dare il 50% degli incassi come precedenti accordi al suo vecchio club quindi capite che lo Spezia vuole monetizzare il più possibile perché poi il 50% andrà appunto alla vecchia società sempre Sassuolo segue Gendray del Lecce alternativa meno costosa ma appunto Olm è l'indiziato numero uno il punto primo della lista però ecco Gendray costa sui 12 milioni di euro per questo lo Spezia comunque attende un rilancio dopo gli ultimi contatti vedremo cioè 12 milioni di euro Olm ovviamente sto sbarellando oggi con tutto sto mercato e quindi vediamo vediamo appunto se Gendray andrà al Sassuolo oppure ci andrà Olm ragazzi l'ultima in ordine cronologico notizia è appunto di Ivan Pandur l'ex Hellas Verona sulle sue tracce ci sarebbero due società di serie A quindi Pandur potrebbe tornare in serie A l'estremo difensore colato è riduce da un'ottima stagione nella fortuna Sittard club che ha portato il club olandese appunto a riscattarlo e metterlo sotto contatto fino a 2027 nelle scorse settimane Pandur era finito nel minuto del Fenerbace e ora pare che ci siano appunto due club di serie A però non mi riporta quali sono sono qui che lo cercavo TMV non me lo dice quindi rimaniamo sul dubbio su Pandur che potrebbe tornare in Italia vediamo se è vero ragazzi come sempre grazie a tutti vi invito a iscrivervi al canale ti dà campione mettete mi piace condividete commentare lasciate 45 like entro 24 ore oppure meglio ancora 50 e ancora meglio 5 iscritti e domani sera a quest'ora avrete il nuovo episodio di calcio mercato speciale serie A vi invito ad andare a vedere quello di serie B che uscita oggi pomeriggio se volete andate a vedere anche quello di ieri sera perché è molto collegato a questo che ci sono molte cose che ieri non erano ufficiali oggi sono ufficiali quindi calcio mercato non muore mai sul canale del monta ragazzi grazie a tutti mi raccomando tanti like tanti commenti tante iscrizioni ci vediamo al prossimo video un abbraccio buonanotte ciao alla prossima